Due esercitazioni con oltre 100 volontari, un convegno particolarmente importante sulle ricadute nelle macro e micro emergenze del lavoro degli psicologi, una celebrazione in cattedrale alla presenza del Vescovo Monsignor Cornacchia e tanti momenti di svago e ricordo. Si è conclusa a Molfetta un'intensa due giorni per festeggiare il ventennale della confraternita di misericordia della città, un appuntamento che ha richiamato tanti volontari Giallo Ciano da tutta la Puglia, oltre a diverse altre associazioni di volontariato del territorio come SER e Croce Rossa italiana. La nostra associazione è diventata un contenitore, non si possono raccontare vent'anni di storia di un'associazione perché abbiamo fatto tantissime cose, attività in ogni senso, sia nelle micro e macro emergenze che nel sanitario e anche nel sociale. Vent'anni di raccolta fondi, di raccolta di beni alimentari, aiuto a tutte le persone che avevano certamente un disagio sia morale che spirituale. Negativo Mike 03, arrivi male il segnale, però se puoi difendere... Vent'anni fa dunque la nascita di una realtà associativa di volontariato impegnata in tantissime attività sul territorio e che ha visto passare dalla misericordia centinaia di giovani e giovanissimi, molti dei quali poi rimasti nell'associazione per aiutare il prossimo, così come da principi fondanti delle confraternite. Tra i cardini delle realtà di misericordia tuttavia c'è la formazione e l'avanguardia su moltissime tematiche che riguardano la protezione civile, il soccorso in emergenza ed anche i servizi sociali. I ragazzi devono essere formati, formati e preparati. Queste esercizioni si fanno proprio per testare le nostre capacità, per mettere insieme tutto ciò che serve sia nella logistica che nel personale. E' stata... vabbè, chiaramente ci sono sempre delle lacune perché vanno modificate e vanno sistemate ed è una... grazie all'aiuto di tutte le altre misericordie riusciamo a capire e a testare noi stessi. Ed allora, dalla due giorni, Molfettese viene fuori un nuovo nucleo già pronto agli interventi sul territorio pugliese e cioè alcune psicologhe appartenenti alle misericordie di Puglia saranno a disposizione per affrontare alcune, tra piccole e grandi emergenze in ausilio alle attività quotidiane straordinarie delle associazioni. Nucleo di psicologhe di cui si è tanto parlato durante il convegno di sabato pomeriggio nella sala consigliare del comune di Molfetta, psicologia in emergenza che è senza dubbio un tassello sempre più importante da considerare in ogni avvenimento, ma la formazione di soccorritori e volontari sul campo è proseguito con due esercitazioni durante la giornata, sempre di sabato, con Melficta 2019, una doppia simulazione di primo soccorso con 100 volontari provenienti da tutta la Puglia con le prime uscite sia del nucleo cinofilo delle misericordie che del nucleo psicologi. Alle esercitazioni, come detto, hanno partecipato anche la Croce Rossa e il Ser Molfetta. La simulazione è stata basata su di un aspetto particolarmente importante di Molfetta, e cioè quello del rischio idrogeologico che ha visto a sorpresa l'evacuazione del plesso scolastico già quinto e la ricerca e soccorso di alunni e personale docente rimasto ferito. Alle 23 poi è scattato un ulteriore allarme, cioè quello della ricerca di sette ragazzi dispersi avvistati in località Cala San Giacomo. Attivata tutta la macchina dei soccorsi per la gestione da parte dell'area emergenza delle misericordie di Puglia, che ha avuto modo di testare la risposta dell'intera struttura operativa.